... Venerdì 28 febbraio, buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di Fano TV sul canale 17 C'è l'informazione in diretta, sono le 7, cominciamo dal Santo, oggi la Chiesa ricorda San Romano Il sole è sorto alle 7.46 e tramonterà alle 17.55 Il cielo sarà nuvoloso con precipitazioni al mattino sulla catena penninica, ancora un po' di vento ma che diminuirà nel corso della giornata Sabato cielo sereno sulla costa, attenzione alle gelate notturne, le temperature infatti sono in diminuzione Quelle della notte, domenica, primo marzo, la domenica si apre, il mese si apre con temperature in aumento soprattutto nei valori massimi I venti soffieranno da sud, ci saranno possibilità di piogge soltanto nell'entroterra Avremo dei transiti di vento freddo provenienti dal nord atlantico nelle prossime giornate Che darà luogo a fasi alterne di tempo instabile e per periodi soleggiati La prima parte della prossima settimana si preannuncia all'insegna dell'instabilità in particolare nella giornata di martedì Mentre nella seconda parte della settimana al momento il tempo pare essere stabile Velocemente un'occhiata alle temperature delle 14, come vedete sono diminuite le temperature ad Ancona a 12 gradi A Fano, Pesero 14 gradi ma già sulle montagne segni negativi Meno uno a Monte Bove così come sul Monte Prata Allora, ieri è stata un'altra giornata convulsa con tante notizie Il Tarra che sospende l'ordinanza del sindaco Ceriscioli Il sindaco Ceriscioli che ne firma un'altra e che quindi mantiene tutto così com'è Anticipando però di qualche giorno la riapertura delle scuole Quindi come ormai ben sapete si torna a scuola lunedì 2 marzo L'ordinanza, la nuova ordinanza è valida invece fino alla mezzanotte di sabato Andiamo a vedere i giornali allora Cominciamo dal Corriere Adriatico Prima il Tar, poi la Regione e le scuole riaprono lunedì Questo è il titolo Sospesa la prima ordinanza Il governatore ne fa un'altra Tutto chiuso fino alle 24 di domani Passo indietro, ora ho deciso il candidato PD e Mangialardi La svolta in una delle giornate più calde dell'amministrazione regionale delle Marche Luca Ceriscioli che è impegnato nel braccio di ferro con il governo Sull'ordinanza per l'emergenza coronavirus Ha deciso di fare un decisivo passo indietro In vista delle prossime elezioni regionali Il candidato del PD sarà, dice lui, Maurizio Mangialardi Il titolo d'apertura invece del resto del carino di Pesaro Ceriscioli sfida il Tar, scuole chiuse I giudici amministrativi sospendono l'ordinanza Il presidente però ne firma un'altra Stop alle attività fino a domani Intanto sul fronte coronavirus sono sei nelle Marche i contagi Anche uno studente, allarme rosso in ospedale, medici in quarantena Positivo, come dicevamo, uno studente romagnolo che frequenta il Marconi La sua classe messa in quarantena Un altro caso è relativo invece ad un anziano residente in città In isolamento anche gli equipaggi del 118 Dicevamo i casi positivi sono sei C'è anche questo studente di 16 anni In mezza giornata nelle Marche e in particolare nella provincia di Pesaro Rubino Si è passati da tre a sei casi positivi al coronavirus Ai tre già noti, che lo ricordiamo, sono il trentenne di Vallefoglia I due anziani di Fano, ieri sera dopo l'incontro con i sindaci, con il prefetto Ha aggiornato questi dati relativi al contagio E a quelli che ho appena detto Si sono aggiunte altre due persone di cui sono appena arrivati i tamponi adesso Si tratta di due residenti nel territorio provinciale Mentre il sesto risiede a Morciano E questo di Morciano è uno studente che frequenta il liceo scientifico a Pesaro Il ragazzo a tutto ieri sera, ricoverato in ospedale a Rimini Presentava condizioni buone, tanto che oggi potrebbe essere dimesso Ma intanto la sua classe al campus è stata posta in quarantena Questo ed altro sulla pagina del resto del carlino di Pesaro di questa mattina Corriere Adriatico I contagiati salgono a sei, tra loro c'è uno studente L'annuncio in prefettura, è un ragazzino di Morciano che frequenta il liceo scientifico Marconi Il preside Rossini dice abbiamo già provveduto a inviare una comunicazione a tutte le famiglie 41 le persone in quarantena nel Pesarese 20 nel Lanconetano, 17 a Macerata e 11 nel Piceno L'anziana fanese è trasferita a Torrette Accertata l'origine del contagio Coppia fanese, il virus appartiene al ceppo della Lombardia Ore di ansia per questa coppia di anziani coniugi fanesi Entrambi ottantenni Risultati positivi al test del coronavirus Ieri si è infatti diffusa la notizia che la donna è stata ricoverata agli ospedali riuniti Torrette di Ancona Per l'aggravarsi delle condizioni Nelle ore successive sarebbero però seguiti alcuni segnali di ripresa Per suo marito invece la situazione è meno grave E l'uomo continua ad essere seguito invece all'ospedale di Pesaro Per entrambi la prognosi è comunque riservata Le controanalisi invece a Pian di Meleto Operaio negativo in aumento i malati del focolaio romagnolo Dunque meno 1, il 51enne di Pian di Meleto Che nei giorni scorsi si era recato in Romania Con il ristoratore di Cattolica Il paziente 1 della Romagna praticamente È risultato negativo al secondo tampone Lo ha comunicato il comune di Pian di Meleto Mettendo la parola fine su quello che ha rischiato Diventare un caso diplomatico o circuito comunicativo Tra Marche ed Emilia Romagna 24 ore prima era stata la prefettura di Rimini A indicare la positività del primo tampone Effettuato dall'uomo in casa Da un'equipe pesarese ma regione Marche Poi Gore si è istituto superiore della sanità Però non avevano confermato Negativi anche moglie e figlio Dello stesso ristoratore cattolichino Così come i due operatori sanitari Che per primi l'avevano assistito Nell'ospedale di Cattolica Il Tar E qui passiamo dalla parte sanitaria A quella amministrativa Il Tar boccia Ceriscioli Lui però fa il bis E lascia tutto chiuso Ora l'ordinanza sospesa Ma il governatore rilancia E lo fa fino a domani Dopo lo stop imposto dai giudici amministrativi Il Presidente ha firmato un nuovo atto Confermate tutte le misure Comprese quelle che riguardano appunto La chiusura delle scuole Burioni Stop alle elezioni È la scelta giusta da fare Il virologo si schiera Dalla parte dunque di Ceriscioli Chiudere le scuole Ha detto Burioni Limita le occasioni di possibile contagio Del coronavirus C'è voglia di svoltare Ma c'è da vedere se il virus La pensa ugualmente Se la pensa come noi Mentre sul Corriere Ancora un altro titolo Il Tar Scuole è da riaprire Ma il governo insiste Tutto chiuso fino a domani Accolta la richiesta del governo Di sospendere l'ordinanza anticontagio Dopo due ore Ceriscioli firma un altro stop Per lezioni e manifestazioni pubbliche Dunque queste tappe saliscendi Lunedì 24 Vabbè qui c'è il racconto Di quello che Di come è avvenuto Tutte le tappe Di questo braccio di ferro Tra Ceriscioli e il governo E il Corriere Adriatico In due pagine Racconta questa mattina Quello che si può fare E quello che invece è proibito Nelle Marche del Tempo Sospeso Una circolare esplicativa Della regione Infatti illustra Nel dettaglio Tutta l'ordinanza In vigore per altre 48 ore Discoteche chiuse Ma nei bar si può fare musica Ammessi allenamenti E partite però Soltanto a porte chiuse Sono due pagine Molto interessanti Che fanno capire Nel dettaglio Nello specifico Cosa sì e cosa no Questa è la prima pagina Poi c'è appunto La seconda Con tutte queste Informazioni specifiche Sono 17 punti Interessanti Tutti da leggere Così come fa Il resto del carlino In maniera un po' più sintetica Solo 9 punti Dove comunque Anche qui si dice Che cosa si può fare Che cosa non si può fare Quali sono le regole Per esempio Ci si può sposare Continuano matrimoni Civili E funerali Sono sospese Invece Le sante messe Mentre Stop anche ai teatri Ai cinema Le discoteche Con Con un'eccezione Ovvero Si possono fare Per quanto riguarda Ecco questo aspetto Diciamolo pure Perché poi ci stiamo avvicinando Al fine settimana Siamo a venerdì L'ordinanza è valida Fino a mezzanotte di sabato Allora Stop alle attività Di spettacoli Quali rappresentazioni teatrali Cinematografiche Musicali Comprese le discoteche Le sale da ballo Eventi e manifestazioni Promozionali Mentre sono consentite Le attività musicali Nei locali Dove queste Non rappresentino Attività prevalente Questa è l'indicazione E poi Ancora dai quotidiani Il virus Detta le ore E la sera È praticamente coprifuoco Alcuni ristoratori Chiudono In anticipo Quattro coperti Tanto vale Andare a casa Dicono Ma al mattino Il lungomare Pullula Di persone Come dire Al mattino Vedete Qua tanta gente Che comunque Una proprietà Per prendere Una boccata d'aria Per fare due passi Mentre la sera Forse perché il buio Il calato del sole Appesantisce tutto Fa un po' più paura Il problema Si ingigantisce Allora si preferisce Stare dentro casa Anche perché Comunque Fa anche un po' freddo Il Dittac Dei proprietari Disinfettate le mani Prima di entrare al bar È un cartello Che è apparso Al vecchio caffè Maretto A Civitanova I clienti apprezzano Il titolare dice È un messaggio tranquillizzante Vogliamo che la gente Si senta sicura E dunque Prima di entrare Insomma È obbligatorio In questo bar Di Civitanova Disinfettarsi Le mani Ceriscioli Abbiamo detto Passo indietro Mangialardi Candidato Per il bene delle marche Regionali Il governatore Il mio nome Non teneva più unito Tutto il Partito Democratico Dice Maurizio invece Chiude il cerchio E domenica Nessuno Faccia Scherzi Faccio un passo indietro Dice Nei giorni scorsi Ho chiesto la disponibilità A Maurizio Presidente del Lanci Sindaco uscente di Senigallia È ottimo amministratore Il mio obiettivo Era quello Di trovare un nome Che fosse unitario E lui Rappresenta la figura Su cui tutto il Partito Democratico Può convergere E ricordiamo Che Maurizio Mangialardi Sarà il nostro ospite Qui in studio Lunedì sera A Primo Cittadino Dopo il telegiornale Pronti ad intervenire di nuovo Se la situazione non migliorerà Il video di Ceriscioli Così ci siamo allineati Anche ad altre regioni E dunque Da domenica La vita tornerà Al suo ritmo naturale Con teatri Cinema, musei Attività sportive Chi più ne ha Più ne metta Che torneranno dunque Alla vita di tutti i giorni Persino la direzione regionale Del Partito Democratico Si farà senza l'ombra Dell'ordinanza regionale Per l'emergenza Coronavirus E lunedì Riprenderanno anche le lezioni A scuola E nelle università Così ha deciso Appunto Ceriscioli Il presidente Effetti sospesi Per un caso Grave e urgente Il tribunale Amministrativo Aveva accolto Però l'istanza Del premier Conte E poi Il giornale Il Corriere Adriatico Nelle pagine di Ancona Racconta Di storie Di ordinaria Quasi follia Perché Racconta Di quello che è successo Tra persone Praticamente Dove andate Con quelle mascherine Così generate Solo allarmismo Ma a indossarle Quelle mascherine Erano due persone Debilitate In attesa di un trapianto Un uomo Si era rivolto a loro Con fare perentorio Intorno a luna Di ieri In piazza della libertà Macerata Protagonista di questo episodio Un cittadino italiano Che era a passeggio Nel cuore del capoluogo Quando ha notato Queste due persone Entrambe del posto Girare Indossando due mascherine Con toni E tutt'altro Che pacati Li ha accusati Di diffondere Ha accusato Queste due persone Di diffondere Una psicosi Immotivata Invitandoli A togliere Quelle protezioni Dal viso Non sapendo però Questo fenomeno Che Era soltanto Per proteggersi Davvero perché Erano E sono in attesa Di un trapianto Ancora Sugli aspetti Del coronavirus L'aspetto economico Filiali Tutte operative L'ABS Non si ferma L'amministratore Delegato Selci Sulle contromisure Intraprese Dalla multinazionale Sospese Solo le trasferte In estremo Oriente Le attività Gravitanti Nella zona Nella zona Nella zona rossa Praticamente Mentre La Marinelli A Pesaro Ha chiesto La cassa integrazione L'azienda Che produce cucine Ha aperto il fronte Il primo caso In provincia Legato al coronavirus I sindacati Sono per questo Molto preoccupati Il settore Con maggiori problemi È quello Della logistica E i commerciali Non si muovono Praticamente più E il coronavirus Fa scattare I licenziamenti Questa signora Questa donna Dice Ero stata assunta Per organizzare Legite Però purtroppo Sono stata Appena licenziata Per colpa Del coronavirus E ora È a casa Senza prospettive Di un altro impiego Né ripresa Del lavoro Ha 37 anni Questa donna Si chiama Laura Grigore Di Tavuglia E racconta Che dal primo gennaio Ha iniziato Il suo lavoro All'agenzia Caravantur di Rimini Che è specializzata Nell'organizzare Queste gite scolastiche Con un contratto A tempo determinato Però le cose Sono precipitate Quando è arrivato Il coronavirus E quando sono arrivate Questi obblighi Cioè Queste leggi Decreti Che vietano Anche le gite Locali vuoti E personale a casa Sospendeteci Le scadenze fiscali Chiedono i ristoratori I gestori di locali Che denunciano Un calo di affari Del 50% Il piatto piange È proprio il caso Di dirlo Anche l'economia pesarese È chiusa È in difficoltà Nella settimana Di massima allerta E preoccupazione Per il diffondersi Del coronavirus L'ultima istantanea Arriva dalle piccole Medie attività artigianali Manifatturiere E dei pubblici esercizi Di cui è fatto il nome Il nostro Tessuto produttivo Il weekend Che è alle porte Non sarà Il solito Fine settimana Soffre tutto Il settore Della ristorazione Bar E locali Di pubblico Spettacolo Anche in tribunale Niente udienze Troppo affollate Perché il presidente E il procuratore Hanno firmato Questa disposizione Per evitare Che ci sia appunto Troppa Troppa gente Mentre La politica La politica Ancora Legata Sempre al coronavirus Perché no L'accordo Con Mancinelli Ricci Si di Maurizio Perché è meglio Di Longhi Il governatore Sblocca lo stallo Chiamando i suoi rivali E oggi La sindaca Annuncerà Il suo appoggio L'ira Di Italia Viva A rischio L'unità Dell'alleanza L'ex rettore Invece dice Se il PD ci ripensa Io ci sono Danneggiamenti Invece Chiudiamo la pagina Del coronavirus Danneggiamenti Minacce Aggressioni Alta tensione Del carcere Di Villa Fastigi Il sindacato Denuncia Una serie di episodi Di cui è rimasto vittima Il personale Di polizia Penitenziaria Dalla pagina Di Fano del Corriere Avevano depredato Tre aziende In carcere La banda Dei Moldavi Arrestati In tre Dopo Una raccambolesca Fuga a bordo Di due furgoni E un'auto Il quarto Riesce però A scappare Hanno tentato Di investire Due poliziotti Al posto di blocco Altri due feriti Nella collutazione L'operazione è stata organizzata Dopo che erano stati notati Movimenti notturni Sospetti Sia a Fano Che nell'Urbinate Sono in corso Indagio in ulteriore Per verificare Se ci sia L'eventuale firma Del gruppo Anche in altri colpi In particolare A Fermignano Fossombrone E a Canavaccio Di Urbino A Fano A Fano Per quanto riguarda La vasca di contenimento Al Lido Riprendono i lavori In piazzale Amendola L'intervento è fermo Dalla scorsa estate La speranza È quello Di chiudere Questi lavori Per la prossima In realtà Sono fermi Ormai da diverso tempo Sono rimasti fermi Per tutto l'inverno È un'opera Il cui compimento Era stato più volte Sollecitato anche Da residenti Al Lido Dagli operatori Della zona Che sono penalizzati Dalla sottrazione Soprattutto dei parcheggi E la durata Dell'intervento Non doveva superare I sette mesi Invece si sta Prolungando Per quasi un anno Probabilmente Non saranno finiti Nemmeno Per la prossima Fostività di Pasqua Il cardino invece Sulla pagina di Fano Anche qui La cronaca Colpi a rafica Stoppa ai moldavi In mascherina Convalidato l'arresto Dei tre stranieri Ammanettati mercoledì notte Ritrovati portatili Contanti Ricce trasmittenti E anche Merendine Furto aggravato Le accuse Resistenza pubblico ufficiale Lesioni E ricettazione Poi La notizia Di un lutto Che riguarda Un giornalista Che è morto Improvvisamente A Rashtat Che è la città Collegata Tedesca Collegata con Fano Gemellata con Fano All'età di 76 anni È morto Harald Basinger Grande amico Della città di Fano E conosciutissimo Anche da tanti fanesi Fu tra i protagonisti Del primo gemellaggio Penso che sia Il primo gemellaggio Quello che tutti Forse portiamo Un po' più nel cuore Senza nulla togliere Le altre Ma insomma Forse perché è stato il primo Il primo amore Non si scorda mai E dunque E dicevo tra i protagonisti Del gemellaggio Tra la nostra città E Rashtat La città tedesca Si parla ancora di carnevale Sul Corriere Adriatico Il tema green Il tema dell'ecologia Sapete Il carnevale quest'anno Aveva come tema Appunto La protezione del creato Dell'ambiente Il tema green È di facciata Il resto Tutto È danni dell'ambiente Il giudizio È quello di Friday for future Ma è molto severo Sulla gestione di questo evento E ci sono accuse Anche al comune di Fano Per esempio Parlano Di ipocrisia Per esempio Il premio Della lotteria Era una crociera E tra gli sponsor C'era anche La kinder e McDonald's Cosa c'entra Cosa c'entrano Questi premi Questi sponsor Con Cos'hanno Di ecosostenibile E poi c'è una precisazione Quella di Pierluigi Piccinetti Maestro carrista Che dice Ieri era stato tirato in ballo In un altro Articolo Del Corriere Adriatico Lui dice Ho progetti ambiziosi Non li ho presentati Piccinetti Spiega le distanze Dalla Carnevalesca Sono stanco Ho anche rinunciato A una collaborazione Con Via Reggio E poi un evento Che si è tenuto Un festival Un festival Del baccalà E dello stoccafisso Organizzato Dall'associazione Viandanti Dei sapori Che si è svolto Alla lanterna A metà Auriglia di Fano Il festival Incorona La ricetta foggiana Vince Cataldo Giacomella Di Torre Maggiore Un premio speciale Invece a Mirco Bussoli Della Baita Di Arcevia E sempre Dai quotidiani Dal Corriere Adriatico Da Pesaro Baia e Villa Marina Stoppa I parcheggi Il comune Ci ripensi A zero I progetti 13 associazioni In campo Per chiedere Un piano Della mobilità Che preveda Meno mezzi Circolanti Vuole gettarsi Sotto il treno Invece Salvato dai carabinieri In contatto Telefonico Hanno convinto Il giovane A desistere Sono state ore Di apprensione Per questo giovane Che aveva manifestato Intenti autolesivi Ma grazie All'operatore Di turno Della centrale Operativa Della compagnia Carabinieri Di Pesaro Un giovane Del luogo Ha desistito Dal suo Intento Suicida Mentre C'è la notizia Ma l'abbiamo data Anche ieri Il nostro telegiornale Guardate la fotografia Di Michele Todisco Michele Todisco È il nuovo questore Che si è insediato Ufficialmente Nei giorni scorsi È nato a Foggia Il 18 giugno Del 59 E adesso È il nuovo questore Di Pesaro Urbino Class action Contro chi produce Camion Alla guida L'imprenditrice Bartolo Meoli Prezzi gonfiati Del 15% Sui veicoli Superiore Alle 6 tonnellate Mobilitazione Di confartigianato Sta andando bene Questa class action Contro i produttori Di camion Condannati Dall'Unione Europea Per aver gonfiato Almeno del 15% I prezzi Dei veicoli Superiore A 6 Tonnellate Continua A pieno ritmo Questa mobilitazione Di tutto il sistema Confartigianato Poi invece La fotografia Di un tir Bloccato in curva Sulla strada Provinciale 2 Conca Sono stati chiusi Due chilometri Di questa strada Perché ieri C'è stata un'improvvisa Nevicata a Monte Copiolo Un po' Nell'entroterra Che ha trovato Ha messo in difficoltà Questi automobilisti Ma anche Questi camionisti Che improvvisamente Hanno dovuto fronteggiare L'emergenza Anche della neve E del ghiaccio Questo camion Si è messo di traverso Insomma La strada È stata chiusa Urbino La cronaca Ci informa Di un'operazione Della Guardia di Finanza Che ha stanato Il raggiro Di un professionista Legale Ai danni di 26 persone Per circa 20.000 euro L'uomo Che risiede a Cagli Con delle farse Dichiarazioni Percepiva Ingiustamente Il reddito Di cittadinanza È un euro Consulente Che truffava Gli anziani E poi Dalla pagina di Urbino Sempre Dei giornali Questa volta Il resto del Carlino Anche qui Finto consulente Raggiro anziani E lo Stato Secondo la Guardia di Finanza Un cagliese Che si spacciava Per un professionista Aveva ottenuto Anche Il reddito Di cittadinanza E poi Sempre Dalle pagine Ecco Torniamo Sulla pagina di Fano Del resto del Carlino Fosso sei ore Frazione Nella terra Di nessuno Abbandono In curia Mancanza di parcheggi E anche Di un sottopasso Sicuro Per accedere al mare I residenti Fanno sentire La loro voce E queste Sono le fotografie Di alcune Situazioni Che si Si trovano Appunto In questa città Che si trova Tra Fano E Pesaro C'è un'interpellanza A presentarla Ai consiglieri Lucia Tarsa E Giancarlo Danna Non c'è neppure Un cartello Che indichi L'inizio Del territorio Del comune Insomma Sono davvero Un po' Lasciate lì In abbandono Il lisippo Invece Protagonista In un ateneo Romano Il caso Dell'atletta Di Fano A Proda Nella capitale Dove si terrà Un master Di secondo livello Invitato anche Il sindaco Massimo Seri Un'intera giornata Quella di oggi Focalizzata appunto Sul caso Dell'atleta Di Fano Che approda Dunque a Roma All'università Roma 3 Per un master Di secondo livello Dedicato ad esperti Nelle attività Di valutazione E di tutela Del patrimonio Culturale Un'intera giornata Dalle 10 Alle 13 In piazza Della Repubblica Dove si parlerà appunto Anche dell'esippo Ma si parla anche Di passaggi festival Nella pagina di oggi Di Fano del Carlino Una delegazione Andrà in Albania L'obiettivo è quello Di crescere sempre di più Belfiori che l'organizza Dice stiamo lavorando Per portare A Fano Le voci più interessanti Della letteratura Di quel paese Dell'Albania Chiudiamo con la bella notizia Della soluzione Di Filippo Magnini Tremo dalla gioia Dice lui Lo ha detto Per tutta la giornata Di ieri Urlando Cantando gioia Da tutte le parti La Cassazione infatti Dello sport Riabilita L'ex nuotatore Cancellando La condanna A 4 anni Di squalifica Lui dice Ho vinto io Sono stato scagionato Da ogni accusa Le gare Io le ho vinte sempre Agli ultimi metri L'avvocato Per condannare Servono le prove A Losanna Hanno detto Che non ci sono E con questo Chiudiamo qui La nostra rassegna stampa Grazie per averci seguito Vi auguro una buona giornata Ci vediamo stasera Alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla notizia E poi vi ricordo Che sul sito Occhio alla notizia Punto it Ci sono tutte le informazioni Tutte le notizie aggiornate In tempo reale Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti